Buongiorno, buongiorno e buon giovedì 22 settembre. Sono tra l'emozionato e l'eccitato perché ieri sera sono andato a una mostra, a una mostra organizzata dall'editore Schira, è l'editore del libro Sempre Milan, lo ricordate, per i 120 anni del Milan, e spesso l'editore organizza mostre a Palazzo Reale. Sono andato già a quella di Caravaggio, ieri sera sono andato a vedere la mostra dedicata a Richard Avedon. Vi ricordate quando io dicevo, dopo una grande parata o un grande gesto tecnico in area, dicevo, ah, come vorrebbe essere qui Richard Avedon, un grandissimo, famosissimo, celebre fotografo. Sono andato a vedere questa mostra fotografica, vi dico, ecco, vi mando qualche fotografo, qualche, non voglio, mi sembra che si dica spoilerare, non voglio rivelare molto più facile, non voglio rivelarvi tante cose, non voglio mettere tante foto perché vi rovinerei, ma vi ho messo questa, la foto per esempio di Marilyn Monroe, bellissima. Richard Avedon era specialista delle foto anche di moda, tante copertine di vogue, quando c'erano in voga, in voga, vogue in voga, le maisons francesi, Christian Dior, Balmain e altre case, Lanven e altre meravigliose case di moda ai tempi di Christian Dior, di Yves Saint Laurent, eccetera, e lui era il fotografo. Una mostra affascinante, Truman Capote, Humphrey Bogart, c'è una Andy Warhol con tutte le cicatrici perché era stato ferito e ha fatto una foto con tutte le cicatrici, e Sofia Loren, questo famoso quadro che sembra quasi un quadro di Modigliani ed è una fotografia di Marella Agnelli con questo collo lungo. Andate a vederla, è bellissima, ma voi mi direte bisogna parlare di Milan e noi parliamo di Milan. Parliamo di Milan perché ieri ho parlato del rinnovo di Benasser, poi parleremo anche degli infortunati, passato, presente, parliamo di tutto. E tanti commenti, ne prendo qualcuno, Erlindo Ronco, poi per esempio Giovanni Silenzi, ne ho preso due a caso. Un top club deve adeguare gli ingaggi alla concorrenza, se no è logico guardarsi attorno, noi cosa faremmo? Ecco, volevo osare, volevo tranquillizzare i tifosi del Milan. Mi prendo una responsabilità, ma ripeto, non invento. I tifoni del Milan, e sono d'accordo con loro, ormai dicono signori, Milan sta crescendo, è in fase ascendente in tutti i sensi, marketing, risultati, parliamo poi degli introiti da stadio, gli introiti del settore commerciale, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo non può cozzare con un aumento anche degli ingaggi. Un top club deve adeguare gli ingaggi, dice Giovanni Silenzi. Ecco, da quello che so io, il Milan, i dirigenti del Milan, la proprietà del Milan, i pleni potenziari del Milan, sono ben consci di questa situazione. Non vivono nel loro mondo lontano, ma sanno, lo sanno, che bisogna adeguare gli ingaggi, bisogna alzare, sempre nell'ottica della sostenibilità, ma alzare un po' o un po' tanto il borderline degli ingaggi, che oggi abbiamo sempre detto intorno ai quattro e mezzo. Ebbene, il Milan lo sa, il Milan è pronto ad alzare gli ingaggi. Vedremo con Benassert, sicuramente una cartina di tornasole sarà l'ingaggio di Leao. Vediamo se il Milan riuscirà ad arrivare a quei sei milioni che per il Milan ha rappresentato una sola eccezione. Due. Donna Rumma, il Milan era disposto ad alzare, andare ben oltre i sette e gli otto, lui non ha voluto, ma lì aveva fatto l'eccezione, e poi per Ibra Supremacy. Il Milan lo sa. Il Milan cercherà di alzare tutti gli ingaggi dei giocatori più forti, cercando di ovviamente avere un tetto logico, un tetto sostenibile, ma tendo a tranquillizzare i tifosi che temono, temevo anch'io, che il Milan sia obnubilato o cieco su questo punto. Il Milan lo sa, vedremo soprattutto con Leao se questo pensiero poi viene applicato, ma il Milan sa di dover salire come ingaggio. Quindi questa è una, diciamo, è una indiscrezione, è una rivelazione che mi sento di fare. Il Milan lo sa. Ripeto, non avremo ingaggi da dieci milioni, certamente no, ma quel quattro e mezzo arrivare a cinque, cinque e mezzo, io penso che il Milan sei, il Milan sia pronto, anche perché salendo tutti, salendo tutto a livello di introiti, chiaramente può permettersi di salire, cosa che non faceva prima, perché il Milan aveva tante incognite. Quindi un Milan che si muove. E qualcuno mi ha scritto, poi andremo a vedere chi, ma Gerry Cardinale poteva portarci un acquisto. Signori, non entriamo nell'ordine, Gerry Cardinale non è il tipo che ci regala un giocatore. Gerry Cardinale starà molto attento, adesso deve partire, abbiamo già i consiglieri di amministrazione, il presidente immaginiamo sarà Paolo Scaroni, vedremo chi sarà l'amministratore delegato. Gerry Cardinale sarà sempre su questa ottica di ingaggi intelligenti, ingaggi che non debordino, ma permetteranno di trovare giocatori sempre più forti. Quindi il titolo è Tranquilli, il Milan lo sa, il Milan lo sa e mi sento di tranquillizzare, gli ingaggi aumenteranno in base agli introiti, in base ai risultati, in base alla grandezza dei giocatori. Perché se è un giocatore puoi dare 4,5 o 5 quando lo acquisti, vuol dire che è già un grande giocatore, magari non grandissimo. Però il Milan ha un grandissimo fuoriclasse che non, come dice Arrigo Sacchi, che non si infortuna mai, che non si stanca mai. Il fuoriclasse che non si stanca mai e che non si infortuna mai, cari amici miei, sapete chi è? È il gioco. È il gioco. Il gioco ha un ingaggio infinito, il gioco non ha bisogno di stimoli. Il gioco è il grande fuoriclasse del Milan, che non si stanca e non si infortuna mai. Grande gioco, grande piore. E la proprietà e la società ci regaleranno non grandissimi giocatori, ma grandi giocatori, per far salire anno dopo anno. Perché l'obiettivo del Milan quest'anno è di vincere la Stella. È un obiettivo, dopo non puoi avere come obiettivo arrivare secondo terzo, rivincere il campionato. E io credo che per quello che riguarda la Champions League, credo che saranno due o tre anni per arrivare al top. Già quest'anno l'obiettivo è chiaro, se poi il Milan è abituato a sorprenderci. Quando giochiamo come contro il Napoli, sono poche se giochiamo così. Il problema è giocare sempre così, che possano battere il Milan anche in Europa. Non credete che se il Chelsea trova un Milan del genere, attenzione, perché il Chelsea buona squadra, allenatore inglese emergente, ma inglese, quindi attenzione alla sapienza tattica degli italiani, e anche lui le sue lacune. Quindi questa è la notizia che volevo darvi. Tranquillizzatevi, il Milan lo sa. Non so se basteranno il denaro per fermare le AO, se volesse 8 o 9, ma ai 6, 6 e mezzo, forse 7, è disposto ad arrivare. Che non è la regola, però sopra i 4 e mezzo andremo. Volevo ricordarvi sempre di scaricare dal link in descrizione numero 10. Numero 10, l'applicazione molto moderna, molto giovane, e attenzione, andate, scaricate, gratuita, è sempre un'applicazione in più, bello avere tante applicazioni, qua c'è una notizia, come allena Luis Enrique la Spagna. Sono rimasto basito. È incredibile. Voi pensate un allenatore che è col fischietto in bocca e in mezzo al campo? No, non vi voglio rivelare nulla, ma lui non è in mezzo al campo col fischietto. Luis Enrique. Notizie di infortuni e di guarigioni. Allora, non ho notizie freschissime su Origi. Si dice sì, sì, arriva. Intanto deve arrivare a Milano, deve essere controllato dai medici e capire bene la situazione. Per quello che riguarda Rebic c'è un cauto ottimismo, non si è allenato ieri in gruppo, speriamo oggi, c'è un cauto ottimismo perché possa essere a disposizione per il match contro l'Empoli. Speriamo, perché Giroux deve tirare un po' il fiato. Ci sono delle polemiche in Francia. Giroux, Deschamps, andate a vederli anche lì su numero 10. È abbastanza esaustiva la situazione di quello che sta succedendo. Deschamps-Giroux è un amore un po' in contrasto. Continuiamo per quello che riguarda Rebic, ve l'ho detto, Teo Hernandez. Teo Hernandez sta effettuando le terapie. Lo escludiamo con l'Empoli. È uno stiramento. Lo stiramento di solito, signori, siamo chiari, lui l'ha subito il 18. Di solito lo stiramento sono due settimane fermo e poi due settimane per essere al massimo della condizione. Così andremo troppo lontani da Empoli, e lo sapevamo, da Chelsea, Juventus e Chelsea. Quindi alla regola sarebbe da recuperare per il Chelsea in casa. Vedremo poi le scelte di Pioli, ne abbiamo già parlato tante volte, ma Teo Hernandez è da valutare giorno per giorno. Ma anche lì vorrei capire e vorrei darvi delle notizie più precise, spero di darvele. Apriamo la rubrica molto velocemente perché siamo già ampi con i numeri e vediamo qualche commento dopo il mio video di oggi. Per esempio Mirko Mauri, purtroppo credo che per altri due anni almeno devono essere bravi a innovare ad ogni sessione di mercato. Vedremo adesso qualcuno. Ecco, mi parlano di Jackson del Villareal, un giocatore che conosco benissimo. Mi dicono promettente, ma signori non è ancora pronto per il Milan. Dante Lodi per Benasser e perché qualcuno mi parla per esempio IG22, Beto non è da Milan, Broian mi piace, Broian abbiamo parlato ieri. Ecco, poi una legge da seguire, mi dici, per fortuna qualcuno, io, che parla di Benasser, lui è il centrocampista più forte della Serie A e io sono d'accordo. Tante Lodi per Benasser e dice nessuno è indispensabile, e lo so, però insomma Luca Fusai mi dice che come me è un adlista, anche io sono un adlista, sfrontato nel senso positivo della parola. Vi ho detto tante cose, state tranquilli sul Montengaggio e il Milan è ben conscio della situazione, andate a vedere la mostra di Richard Avedon, bellissima, la situazione degli infortunati e sono contento che Benasser piaccia a tutti. Se vi è piaciuto questo video andate sul, mettete il vostro like, iscrivetevi al canale di tutti Carlo Pelegatti, attivate la campanella e attenzione sta avendo molto successo il mio sesto podcast sulla storia del Milan, Ronaldinho Pato Beckham.